Si parte con il Natale anche a Casa Micciola e insomma non lo diciamo noi ma lo dicono i numeri, si parte col botto. Sì, abbiamo spaccato come si suol dire, è vero, abbiamo fatto una bella cosa, frutto che ecco alla fine i soldi vengono spesi bene ma vuole anche dire che Casa Micciola è viva, Casa Micciola si sta rialzando dal tragico evento del 21 agosto è vero che questo non è il modo per poterlo dire e dimostrare ma è un modo per far capire che Casa Micciola è unita che Casa Micciola quando si deve riunire per fare delle belle cose lo fa ma parallelamente l'amministrazione sta seguendo con attenzione e con tanta determinazione tutta la problematica del terremoto perché poi diciamoci la sincerità è quella che ci sta più a cuore. E' anche vero che stasera c'è gente che insomma siamo in un periodo di bassa stagione turistica quindi diciamo l'utenza è quasi esclusivamente residente però c'è gente che arriva da tutta l'isola probabilmente anche queste forme, l'organizzazione di questi eventi ha contribuito a cambiare anche un po' la concezione di Casa Micciola nell'isola che una volta diciamo così era zona di passaggio invece adesso riesce anche ad essere punto di aggregazione e di riferimento per l'intera isola di Sì Sì Gaetano questa è una cosa importante dobbiamo metterci in conto tendenza il problema l'hai meglio tu evidenziato e per questo abbiamo condensato in due tre appuntamenti importanti tutto il cartellone ma ci stanno anche tutta una serie di eventi che per i bambini, per le persone sportive ma c'è l'evento capodanno che quest'anno noi ci contiamo, puntiamo tanto perché è un artista di fama nazionale e internazionale è un concerto non canterà con le basi quindi rappresenta un qualche cosa di veramente importante dove ho avuto tanto riscontro già e sono certo che come negli ultimi anni perché poi negli ultimi anni Casa Micciola ha sempre dettato il primo posto a Capodanno io credo che quest'anno non ce ne sarà per nessuno Le luci di Casa Micciola non siamo degli artisti quindi personalmente non possiamo dire sono le più belle però quello che dicono in tanti sono sempre le più eleganti è una definizione che ovviamente poi tutto è soggettivo per carità ma è una definizione che sente di condividere Sì in effetti noi puntiamo non tanto a fare come si suol dire in gioco il volume, la pacchianata cerchiamo anche di dare uno stile, di dare un significato alle luci e non ti dico che noi non abbiamo finito cioè quest'anno c'è la grande sorpresa, la grande novità che è questo tunnel tutto illuminato preparato proprio per i bimbi dove ecco sarà bello passarci dentro